E salve tutti ragazzi in questo nuovissimo video, sono quasi mezzanotte e niente, oggi andremo in miniera. Oggi tocca, molto bene, la notte sta calando ma noi andiamo in miniera quindi non ce ne frega assolutamente una mazza di niente. No ragazzi ma, cioè ce n'è uno già in esposizione così, molto bene. È vero che in queste grotte qua si possono trovare così però magari ne trovo uno tipo, uno. Il primo diamante, infatti è uno, orca troia. No, 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 no. Allora signori, siccome sono morto bestemmiano tantissimo e tantissime volte, ho deciso di portarmi in rifornia. Abbiamo Stelix, che è un altro youtuber entrato da poco, molto grande, e il solito Chris. Quindi abbiamo rinforzi, soprattutto dovrei far andare avanti prima loro forse, che hanno una matura di diamante. Devi darci la via. E qua c'è una mega caverna gigante, se sei con le shader li vedi anche i diamanti guardando sopra. Vediamo un po'. Uno, due e tre. Vabbè, la cesta. Vedente il nostro piano è prendere tu, Stelix, i diamanti con Sigtac, e poi alla fine di questa situazione della miniera, li mettiamo tutti... Aspetta, parlo io, parlo io. Sì, sì. Li mettiamo tutti... In fila. No, vabbè. E faremo uno spacchettamento. Ci siamo arrivati qua, nel chest opening più grande d'Italia. E poi a te, capita, andiamo al 75%, e poi io e Stelix ci dividiamo il 25%. No, no, io ho tutto a Fenix, non è un problema per me. No, vabbè, no, vabbè. Ok. Quindi... E lo suo video fa comunque per lui, non per me. Allora, vediamo un po'. E anche perché sono povero, ricordati questo. Sono di tasca, non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Poi che cosa? Riprendo anche altri minerali? Allora. Io non ti prendo niente, possiamo... Ti lascio tutti i minerali, ti riprendi tu dopo. Allora, ha un po' di... Ah, questo mi servirà l'iron, perché se mi si spacca... Ma devo scendere verso il basso, quindi... Tu sei qua, Capitan, scendiamo verso il basso, tipo... Dai, facciamo il tunnel da... No, guarda, vi insegno io, vai, vieni, vieni, Chris, facciamo il tunnel da due. È qua sotto, è qua sotto, è qua sotto, che si va verso il basso. Ah, vai, vai, andiamo tutti, andiamo, 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 andiamo. Andiamo. Allora... Tutti in fila indiana. Allora... Non c'è nulla, sembra. Vediamo che oggi non mi parte il... Ecco, diamanti, 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 diamanti. Bello, vieni, vieni, dove sei? Allora, aspetta. Bello. Due siete? Quanti sono? Due, tre. Sono di più, sono di più, buono, buono. Qua, 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 quattro? Che benessere, che benessere. Che bello. Ci verrò oggi e poi non ci verrò mai più, che bello. Eh, comunque... Ora, ora, bisogna buildare anche, facciamo un po' di ability, così. Tipo, io vado in queste due zone, tipo, facciamo una cosa. Boh, andiamo di distanza a Bode. Io vado qua, ciao, ciao. Va bene, tu vai lì. Aspetta, ma... Ti tieni un po' di torce, però. Sì, sì, sì. Che così. Ma comunque, Fenix, se ne hai bisogno, tieni qua. C'è del legno. Ok, no, ma non... Non penso, mi sembra. In caso ti serve per fare per dei picconi, sicuramente. Allora, io da che parte posso andare? Quadritto? No, c'è già due. Quadritto, non lo so. Io invece vado di queste qua. Dai, tre, due, uno, via. Via. Oh, bello, me gusta l'oro. Me gusta la mangusta. Me gusta stu. Io non voglio dire cosa mi gusta, che penso che è un po' bannabile. A me me gusta... Me gusta... La fega? No, no, qualcos'altro. Cosa? Parte con la L. Cosa parte con la L? No, ma pu... pu... puoi dirlo? Tanto non ci sono... Cioè... I lapis, raga. Ah. Ah! Mi slocio tanto cosa spettate, vabbè. Ed è bannabile il lapis. Eeeh... Sì. Diamanti, diamanti, diamanti. No, no, fermo. Ora vengo a prenderli. Ce ne sono solamente due, però. Cado. Pecchi. Mmm, ma me gusta tanto due. Vediamo, ne trovo altri, vediamo. Vabbè, vabbè, ci sta, ci sta. Almeno tu li hai trovati. Oddio mio. Ho trovato altri diamanti. Eh, vabbè. Questa è la caverna di prima, mi sa. Vabbè, sono un po' di... No, ok. Eh... No, raga, io vi dico una cosa. I diamanti le vene da otto, si trovano a meno sette, meno quindici. Se noi andiamo a scopo in questa altezza, quindi... Eh, li trovi, ma li non trovi bene, Gia. Cioè, capisci? Trovi, però. Oddio. Mamma mia, che scagozzo. Mannaggia. Oh, diamanti, 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 diamanti. Eccoli di nuovo, che bello. Ragazzi, sono fortunato, io non so. Sono... E' una vena da otto, è una vena da otto. Bolo! Inizio a prenderli? Buono, vai, 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 prendili, prendili. Vediamo, scopriamo. Eccolo, c'è, c'è, c'è. Aiuto, 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 aiuto. Ragazzi, siamo già a 18. Ok, ora mangio. Non pago affitto. Non paghiamo l'affitto. Dai cazzo, siamo negli noi. Bello. Beh, vabbè, bel venolo. Ragazzi, siamo... Ragazzi. Siamo troppo forti. Cioè, modestamente, quanto cazzo sono bravo a minare i diamanti, cioè... Avete visto la nostra parodia di diamanti? Cioè. Quanti siamo, Gio? Quanti siamo? Guarda, guarda. Maia. Aspetta che... Diamanti, amanti... Praticamente io, ragazzi, per voi sono un tank, perché c'è, tipo, nella maggior parte dell'armatura c'è un manning e protection 3-4. Io non sono nulla. Quindi sono tipo un tank io. Ok, mi sa che dobbiamo andare verso il basso adesso, per... Oh no, qua c'è un... Oh no, qua c'è un... Sì, infatti, ragazzi, stiamo risalendo, tipo. No! Oh, ho visto una freccia. No. No, no. Dov'è? Lo sfondo! Sì! Sì! Bravi, bravi, bravi collaboratori, andiamo. No! Cazzo. Andiamo, 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 andiamo. Ah! Che cazzo è? Fate scappulsare addosso. Che cazzo è? Che chi è che spara? Diamanti! Non ci credo, dove sei, dove sei, dove sei? Diamanti sotto l'ossidiana, ragazzi, madonna. Oh, dove sei? No, non ci va. Sono diamanti sotto l'ossidiana. No, ma sto qua. No, ma sto qua c'è la furia. Ragazzi. No, ma io me lo porto anche dagli dei diamanti, no, no, no. In che senso? Ma che stracate. Ti chiamate. Ti non leggo, ti non leggo. Ti chiamate a me, ragazzi. Cioè. Signori, questo è il mio collaboratore. Noi siamo soci in cosa? Tu cosa fai di preciso? Si può sapere? Bravo collaboratore, bravo. Diamogli qualcosa per ringraziarlo, tipo... Sì. Vediamo un bastonante. Vediamo, guarda, c'ho la canna in marcia che non mi serve, quindi... Tieni. No, ma Chris, ma qua continua, ci sono altrimenti die diamanti, là, eh. Ma te, là sotto c'è uno diamante, esatto. Ma anche sopra! Guarda sotto! Non finisce più! Cazzo, Chris. Cazzo. Dobbiamo prenderli tutti, giusto? Dobbiamo prenderli tutti. Eh, sì. Ma è fatto il problema che finché Stelix non torna, non lo possiamo. Facciamo una cosa, ci fermiamo qua. Ci fermiamo qua, tipo in questo punto. Prendiamo quei due diamanti, là sotto. Prendiamo tutti i diamanti di questa caverna e poi torniamo su in superficie, facciamo lo spacchettamento e chiudiamo sto video. Allora ragazzi, siamo usciti dalla caverna con alcune morti, quindi alcune lesioni, ma in realtà il nostro collaboratore Chris ci ha aiutato, quindi... Adesso abbiamo uno sta che... E forse qualcosa. Uno sta che sei di blocchi di diamante. Che non smettono più. Io ne ho tre, dici, aspettati. Io ne ho 64, ok. Vai Chris, ora passi lì il piccone. Aspetta, vabbè, allora. Prima piazziamo, allora piazziamo, facciamo un bello spiazzo tipo qua. Allora, prima di spacchettarli, ragazzi, scrivete qui, sono nei commenti quanti ne usciranno. Sono uno sta che sei, abbiamo un piccone con fortuna, tre, giusto? Sì, sì. Quindi... No, ma non sapete giocare a Minecraft, spaccano con la mano i diamanti. Secondo me ce ne andano di più. Giusto. Me l'ha detto un amico. Va bene, va bene. Allora, poi... Allora, potete dire anche voi un numero. Io? Io ho due stack e sei. Allora, secondo me, invece, più di tre stack. E la Madonna più di tre stack, non so. Uno, toliti. Iniziamo! Allora, volete sapere il numero? Il numero è... Il numero è... Ah, è troppo. Due stack e 38. Uh, vedi? Buono, buono, buono. Sono due stack e 40, quindi, Chris, il tuo 25% qual è? 42. Sì, 42. Bello. Già. Chris, hai vinto la lotteria. Yeee, che bello. Ma guarda, te ne offro tre, così arrivi a 45, dai. Va bene. Stelix, sei sicuro che non vuoi niente? No, 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 vieni tu. Va bene, grazie. È stato un vero piacere. Niente. Ragazzi, detto ciò, l'episodio può anche finire qui, anche perché sono successe troppe robe, quindi basta. Andrò a editarlo, ci metterò aggiorni, però... Niente. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao! 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 No, 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 no. Continua.